A Scafati fu l'immersion nel mondo dei wedding planner, è partito questa mattina l'entusiasmante corso di tre giorni promosso dalla Eva in Planner Tina Citarella con professionisti del settore per poter comprendere al meglio la realtà che circonda una delle figure sempre più determinanti nella riuscita del matrimonio da sogno. I partecipanti oltre alla formazione avranno modo di ideare e realizzare un progetto rispettando il tema che verrà assegnato avendo a disposizione l'intera factory wedding solution di Scafati. La mia è una maniacalità nel senso che io sono per i dettagli perché i dettagli fanno la differenza e poi è un po' di tempo che pensavo di fare un corso di formazione e finalmente ci sono riuscita perché poi lo puoi fare solo quando ovviamente hai raggiunto un bagaglio di informazioni notevole e dopo tanti anni di questo lavoro ho deciso di fare questi corsi di formazione che mi stanno dando molta soddisfazione. Adesso siamo alla prima edizione del corso di Wedding Planner e abbiamo già tenuto due corsi di Party Planner. Ci saranno nuove date, nuovi corsissi e nuovi discenti. Il fatto che la classe sia piena per me è motivo di orgoglio perché tutte queste ragazze sognano un giorno magari di diventare quello che io oggi sono e quindi io sono molto contenta perché vuol dire che il mio lavoro lo faccio con passione e la mia passione si trasmette e riesce a bucare l'obiettivo ed arrivare nel cuore delle persone. La formazione per me è alla base del nostro lavoro perché ci deve essere curiosità, il nostro leitmotiv è la curiosità per essere sempre sul pezzo, per conoscere i trend del momento e quindi noi dobbiamo sempre essere formati, dobbiamo sempre avere quella marcia in più rispetto agli altri e la formazione è alla base del nostro lavoro per poter dare idee sempre più creative ed eventi sempre più spettacolari. Grazie a tutti.